Castelli è il connubio perfetto tra arte e natura, quindi con questa manifestazione abbiamo voluto esaltare queste due anime. C'è la possibilità di fare una piacevole passeggiata, che in questo periodo dove c'è un aumento delle malattie cardiovascolari è sempre da promuovere, visitando e valorizzando tutte quelle che sono le eccellenze di Castelli, come il liceo artistico, la chiesa di San Donato e tutto il centro storico. Quindi questo è l'obiettivo di questa importante iniziativa e voglio ringraziare per questa manifestazione il CAI di Castelli, che è sempre molto attivo sul territorio e tra l'altro quest'anno taglia un traguardo molto importante, che è quello del quarantesimo anno di attività. Quindi gli faccio i complimenti per quello che hanno fatto e per quello che faranno per il futuro per Castelli. Il CAI ha organizzato questa giornata per cercare di mettere insieme la storia della ceramica di Castelli, la sua illustre tradizione, con lo splendido paesaggio sul quale Castelli può contare. E quindi la passeggiata prevederà un ritrovo alla sede del CAI in mattinata, una visita al liceo artistico, alla chiesa di San Donato e poi al Borgo e per poi trascorrere insieme il pomeriggio di nuovo alla sede del CAI in compagnia del club alpino italiano nella sezione di Castelli. Si può prenotare telefonando ai numeri che abbiamo messo sulla locandina e direttamente la mattina sul posto. Vi invito a Castelli a fare questa piacevole passeggiata in mezzo alla natura e cultura con noi del CAI di Castelli.